salve amici di youtube benvenuti in questo nuovo video tutorial oggi parleremo di un altro tool che potrebbe esserci molto utile per la nostra distribuzione linux ubuntu il tool si chiama ubuntu tweak che ancora non è nella serie finale ma che però è un ottimo tool dove ci permette di comunque di sapere c'è ci permette di sapere e modificare alcune cose ad esempio ci dà tutto le notizie che riguarda il nostro computer e il nostro sistema poi su tweak abbiamo i font l'impostazione compits gli uniti setting utile poi c'è l'impostazione del gestore di finestre l'icone della scrivania l'accesso controllo font il tema e di setting vabbè che c'è tutto poi se andiamo su admin ci sono queste voci qua e poi su janitor sarebbe diciamo non so precisamente questa che voce sia se lo sapete commentatelo nel commentate e fatemi sapere perché da ovvero questo non non sono ci da capire probabilmente per rimuovere pacchetti non lo so ecco questo è ubuntu tweak e in descrizione troverete anche sempre i codici per per installare ubuntu ubuntu tweak bene vi saluto ci vediamo al prossimo tutorial e non so se prima di natale riesco a fare qualche video tutorial e anche se non farò nessun video tutorial farò un video comunque dove vi saluto per le feste e vi do gli auguri quindi rimando gli auguri a un prossimo video solamente in settimana e vi lascio con questo ubuntu tweak e nulla grazie per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo tutorial